In questo nuovo video io sono Karina e oggi siamo qui tornati per la reazione al pass Per chi ha visto il video di stamattina incredibile siamo andati a sbloccare il nuovo Broadway Andiamo a riscuotere tutti gli star drop della stagione 27 che è iniziata ora Ma tu quante monete? Ah c'erano 100... 100 cose che mi ho dimenticato di prendere Vai tutto tutto spacchettiamo veloci Veloci che andiamo a provare anche la nuova Ranked Raro Raro, sempre così raga, raro Però vabbè, di solito li becco sempre leggendari in questi qui del pass Non trovo mai nulla 50 bli... oh mitico, mitico 200 buonissimi per la famalti, oh mitico Gadget, nulla di interessante 50 di ore, molti buoni che ci servono per maxare l'account giustamente Spero che mi dà anche un po' di punti energia che raga sono molto accorto in questo periodo Allora andiamo qua, vediamo cosa ci dà Altro droppettino del giorno Mitico di... raga ma questa è fortuna Una pima di Byron epica Interessante, sono molto costose Quindi tanta roba Un altro epico Ma raga ma che è sta roba Epico di nuovo Adesso raga mi bannano l'account perché trovo tutto è leggendario Epico ancora Tutti epici Super raro No ma questo è fortuna Altro super raro De botto Raro Io non so quanti sono Presso il conto Saranno 12.000 20 bling Buonissimi Che ne ho tanti in questo momento Epico Altro epico Raga ma stiamo... Eccola qui La pagione 27 Vediamo qua il club Guardate quante persone sono dentro Uh anche le missioni Aiuto Aiuto già così mi fai spaventare Brockstars Un sacco Ma che è tutti vinci otto battaglie Aiuto aiuto Veramente aiuto Questa volta ho avuto fortuna Nessun modificatore Perché nessun modificatore Che è sta season ranked Ci sono modificatori Questo è il pass C'è anche la nuova Enz Che andiamo subito a provare Che sembra molto bella nel campo di prova Giustamente non lo scioppiamo Bellissimo lo spugno È tutto a tema Egitto Bella davvero questa skin Raga bellissima Sembra che lo vedremo Un po' cambia Ci sono anche le varianti colorate Vabbè Già lo sapete Allora Giustamente noi Corriamo a farci una partitella Iranked Subito Di prima mattina Perché non ho tanto tempo a disposizione E 26 giorni Come sempre è stato Come vedete abbiamo Il raddoppio Andiamoci Velocissimamente A fare una partita Che ci sono anche le missioni Ranked Spero Che va subito Di prima mattina Perché Perché così Speriamo Ecco raga Potrebbe essere la volta buona È andata Ci abbiamo messo un po' Ma ce l'abbiamo fatta Siamo entrati Raga Di sicuro siamo uno dei primi Che è stato la partita Allora Qui raga Tanto io Non ho delle missioni specifiche Con il bravo Andiamo a spedire Andiamo casuali Tanto Infatti Raga Saranno tutti i voti Come ve l'ho detto Io Tutti i voti Siamo anche con dei bravi Dei pro player Molto forti Secondo me Ragazzi Ci facciamo battere dai bot Ricordatevi questo video Come il video più incredibile Mai uscito su youtube Il video più incredibile Mai uscito su youtube Guardate che velocità Non so quanto siamo stati veloci Immaginatevi che entriamo in classifica Con la prima Non penso Non abbiamo ora Doppia Diamo una cosa Regà Non funzionano le località Andiamo male Altra Adesso vanno Prima non andavano Forse perché saranno i primi minuti Ci saranno tanti pro player Che giocano Ci può anche stare Allora 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 Dei mandare di jessy Leon Ma lo sai che vi dico Vediamo di jessy Speriti Sono partite molto rapide Secondo me Boh Main Edgar Uno ha messo Main Edgar Attenzione Chissà se riusciamo Se riusciamo a prenderci Pro mid drop Il giorno Poi entriamo in prima posizione Scopriamo Finendo questa partita Non penso raga Perché botto Secondo me sono troppo forti All'interno di Brawl Stars Cioè Devastano 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 Secondo me raga i bot Troppo forti Appena fatto battere Da un bot 165 Vediamo Vediamo Vabbè raga È impossibile È impossibile Cioè Saranno già Amito 2 No Saranno già Come si chiama Non amito 2 È abbronzo 2 o 3 Perché Non so quanti minuti Cioè Immaginatevi giocare Con i primi al mondo Cioè Immaginatevi Raga per me La peggior modalità Che compare È dominio Perché è quella Che dura di più Cioè Non vorrei dire Cos'è Sbagliate Cioè Incredibile Cioè Troppo forti Bot Però il competitivo Di Brawl È bello Questa dovrebbe essere Una game mode Competitiva Uno mi ha detto Dai che vinciamo In 0 a 5 secondi Troppo divertente Però Condanna Cerchiamola Di vincerla A tutti i costi Aspettate che faccio Una cosa Cosa sistemata Adesso posso Ritornare a giocare Ho appena Sbagliato la Toretta Toretta andava In mezzo Secondo me Come fanno Essere così Forti i bot Raman Che sto Giocando Un po' A caso Che c'è Voglia di giocare Si veramente Con i bot Vai Altra win Easy win L'abbiamo fatta La bronze 2 Ah c'è lo Stardio Di giocare off camera Buona ragazza Sempre Jesse Spinti Che è un brawl Che mi diverte Tanto E mi piace Tanto Vediamo se Si mette qualcuno Ragazzi per me Stanno andando Easy a fare le missioni Se sono così Bot Evviva Evviva Regà No Io dopo Voglio andare A vedere I profili Non sono bot Cioè Non sono bot È incredibile Sta cosa Regà Li battiamo forse Li battiamo Dai Sarebbe incredibile Oggi si riscrive La storia Ma secondo voi In che posizione Stavremmo Si è iniziata Adesso Ma dove Che ho fatto No raga Sarebbe Incredibile Andiamo a vedere I profili Cioè Il video Finisce Con Con dei Senza bot Cara Io sarei curioso Di vedere I profili Di sti player Ma È la prima volta Che non comparano Bot a bronzo Cioè Sarà iniziata Proprio ora La partita La dovremmo Concludere Prima Lili Sempre OP Belle persone Lili Cavolo Tanto Non toglie via Nulla Andiamo a vedere Quanto erano Ma dove Erano Pro Ma dove Ha fatto Master Ma dove Erano belli Forti GG Allora Ecco la prossima Football Adesso Cominciamo a vedere Quelli forti Big bassi Questa è l'ultima Poi ci salutiamo E ci vediamo I prossimi video Questa è proprio L'ultima Che faccio Per oggi Per oggi In questo video Nel tanto Adesso andrò Off camera Però Tanti drop Ce li facciamo Oggi Sono partite Rapide Un Ttm Un Ttm In partita Incredibile Partita Regà Sono Esports Non è gay Oh attenzione Regà Dai Non mi dire Che l'ha sbagliata Posto No C'era entrata Vai Vai Che c'era entrata Se Dynamite Lo fa Se Dynamite Lo fa Oggi Si riesco a Scrivere La storia Cioè Raga Sembrano Provenenti Da qualche Mondiale Mamma mia Io vorrei Sapere Che posizione Sto Niente Solo Che si Paga Sempre Tutto Lo sto Lo sto Sì ma è logico Si è messo Dana Dai 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 Non voglio neanche sapere Ma c'è lo random Perché questa non è una random Sono con delle persone che Le mandano abbraccio E che ce lo facciamo Madò Che gol Che trick L'ha fatto lui Grande Venga ma veramente sono così forti Al bronzo Madò Chi ha fatto quel trick Aveva scritto la storia Cioè ma veramente Ma io penso che le località Non funzionano Vabbè Vediamo Vabbè raga Noi ci salutiamo E ci becchiamo Al prossimo video Quindi Ciao belli Ciao Ciao